5 euro e 99 il prezzo di questo prodotto una colla modellabile si comporta come un pongo che si lavora con le mani gli si dà la forma che si desidera e si va a creare ciò che si vuole oppure si va a riparare anche quello che si vuole io in casa l'ho utilizzato più volte per creare dei ganci in punti in cui magari quelli adesivi non si riuscivano a mettere con questo materiale che ricorda un po il pongo si va a dare la forma anche a spingere contro la superficie per farlo ben aderire quando si asciuga resta lì a lungo e non soffre di movimenti urti temperature acqua cose del genere io l'ho utilizzato sia in cucina per creare dei ganci per gli asciugamani sia sulla porta d'ingresso per dei ganci delle mascherine questo kit invece ha più colorazioni rosso blu e giallo ciascuna di queste buste che vedete che sigilla individualmente il prodotto perché quando poi si apre bisogna modellarla perché asciugandosi si secca 3 grammi e 5 ciascuna di queste confezioni che complessivamente poi costano 5 euro e 99 secondo me questo kit è forse quello più interessante per i colori perché c'è sia la versione bianca sia la versione nera sia la versione mista sia la versione colorata e forse la versione colorata è quella un po più allegra che già che si fa qualcosa partendo da zero forse quella più interessante da tenere sott'occhio e per questo la suggerisco io lo uso da un po di anni e tiene tiene veramente tiene da anni un gancio per le chiavi di casa sulla porta d'ingresso e regge il peso di un mazzo di chiavi con tutte le cose che poi uno ci mette attorno alle singole chiavi di casa della macchina e tutti i porta chiavi e le cose quindi tiene funziona molto bene ed è veramente facile da utilizzare da applicare